Sì, siamo qui con il ministro Piantedosi. Anche oggi un risultato importante, come forse sapete, quindi un'attività di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria è molto importante e quindi più che esprimere il grande onore, il grande piacere anche di aver accolto l'invito della professoressa Falcone, quindi tutto qui. Adesso ci godiamo un po' questo evento, questa giornata, anche questo posto bellissimo, di cui mi stavano descrivendo, insomma, le condizioni disastrose. Ministro, sono passati 30 anni, è stato arrestato Matteo Messina Denaro. Cosa significa per voi e come proseguirà la lotta alla mafia? Beh, significa che l'arresto di Matteo Messina Denaro, l'abbiamo detto in tutte le circostanze, significa la chiusura di una pagina, ma una pagina che si gira e quindi comincia un'altra storia, e quindi è stata la chiusura di una pagina della nostra storia molto importante dal punto di vista negativo, quindi la mafia stragista, l'abbiamo detto, quindi una fase storica in cui la mafia uccideva, colpiva i valori fondamentali della società civile, faceva delle vittime importanti, questi servitori dello Stato che hanno lanciato il loro messaggio alle generazioni future. Adesso la battaglia prosegue, perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire, quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e quindi come tale è destinato a finire. Però, fino a che ci sarà l'ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l'ultima goccia di sudore per combattere. Mario Misistro, ci sono ancora tante commissioni, come si fermano questa vicinanza anche della società civile, della politica nei confronti della mafia? Si fa esattamente come stiamo facendo da anni, ormai credo che l'Italia su questo ha consolidato un'esperienza molto importante, proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni, i nostri investigatori, a inseguire i soldi, quindi a seguire i percorsi economici criminali che interessano alla mafia, a preservare i circuiti legali delle istituzioni, quindi anche gli interessi che le organizzazioni mafiose manifestano da più parti, insomma, su quelli che sono appunto l'infiltrazione anche delle istituzioni. Credo che sia un fenomeno che deve ancora preoccupare, ma deve rassicurare i cittadini, il fatto che credo che il nostro Paese da tempo manifesta la capacità di intercettare e quindi in qualche modo di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia.